Un anno fa l'inchiesta di Teleunica calzava il velo sulle condizioni in cui versava Villa Manzoni. Lei aveva annunciato che i lavori sarebbero partiti a breve, è passato un anno, come detto, c'è finalmente questa data? Sì, la data c'è, i lavori per il restauro del pian terreno partiranno nella seconda metà di aprile 2018, per cui sono imminenti l'avvio dei lavori. Che tipo di intervento? Sarà un intervento complessivamente di circa poco meno un milione di euro, 452 mila euro da un finanziamento, come avevamo già detto, del MIBACT, con ancora grazie all'interessamento del dottor Negri e dell'allora ministro Massimo Brai, a cui si aggiungeranno 380 mila euro in carico grazie a un contributo di Fondazione Cariplo su un bando che l'amministrazione ha presentato e vinto nel corso del 2016 e che permetteranno finalmente il restauro del pian terreno di Villa Manzoni con l'allestimento di un nuovo percorso manzoniano. Quanto dureranno? Partiamo, come ho detto, ad aprile. I lavori non sono sicuramente brevi, di immediati di qualche mese. Al momento, finché non avremo il time che ci verrà dato dalla sovrintendenza, non siamo nelle condizioni di dirlo. Chiuderà Villa Manzoni? L'obiettivo è quello di non chiudere Villa Manzoni, ma di far partire i lavori con dei nuovi allestimenti temporanei che seguiranno ovviamente gli spostamenti e l'andamento dei lavori. L'obiettivo, semmai, è quello che ancora dobbiamo valutare anche con la sovrintendenza e con l'azienda che avrà in carico i lavori, sarà quello di pensare ad un ingresso comunque riservato per le scuole e i visitatori, magari a titolo gratuito, proprio per venire incontro al disagio. Sicuramente resterà visitabile e fruibile la Pinacoteca al primo piano. Si metterà a mano anche alla Cappella e alla Sacristia? Questa è una bellissima notizia di oggi. È stato lanciato un crowdfunding per l'avvio appunto del restauro della Cappella, ma un restauro che sarà certo e sicuro anch'esso realizzato tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, in collaborazione con un bando e un progetto che andrà presentato sul prossimo bando della Fondazione Comunitaria delle Chese Onlus, che speriamo abbia sempre la solita attenzione verso il nostro patrimonio.